Montaggio della piletta Montaggio della piletta Togliamo la guarnizione la protezione antigraffio Sartello Mettere silicone qua Importante mettere silicone Vedete Il silicone trasparente Normalissimo Va bene La quantità giusta Più o meno quella lì Pulire Anche sopra la guarnizione Mettere silicone Ok Ecco Questo è il primo Qua dentro Ecco qua Questo va sopra Se lo giriamo Eccolo la Come potete vedere Adesso si può Fare Fare un corpo soltanto Da sotto Da sotto Il silicone serve proprio Per fare aderire In modo che In modo che non goccioli Non ci siano perdite Eccolo 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 L'asticine L'asticine per il saltello L'asticine per il saltello Vedete Molto semplice da applicare Questa come si chiama L'asticine per il saltello L'asticine per il saltello Anche la biletta Con il saltello E' tutto Eccolo 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 Eccolo